Siamo con Mr. Antonio Palo, nuovo allenatore del Sant'Angelo, innanzitutto Mr. Benvenuto. Un paio di domande su come ha visto la squadra dopo i primi due allenamenti, quello di ieri e quello di oggi, sia dal punto di vista fisico, tecnico, sia dal punto di vista emotivo. Buonasera a tutti. Io ho visto una squadra viva, una squadra vogliosa di fare punti, una squadra che sta bene fisicamente, sta bene moralmente, una squadra che deve solo iniziare a fare punti. Questa è l'unica cosa che ho chiesto ai ragazzi. Dobbiamo avere fame di vittorie, fame di punti e dobbiamo andare in campo affamati di conquistare al più presto questi tre punti che per noi sono fondamentali. Perfetto. E come si è concretizzato il suo arrivo a Sant'Angelo? Si è concretizzato in pochissimo tempo, si è concretizzato. Mercoledì, no, martedì sera c'è stata una telefonata del Presidente, ci siamo incontrati con il Direttore, abbiamo fatto due o tre chiacchiere anche con il Vice Presidente, siamo arrivati subito a un accordo perché c'era la volontà da entrambe le parti di sposare questo progetto. Io sono onorato e sono orgoglioso di questa squadra perché stavo cercando, non un contratto economico, ma stavo cercando una squadra che mi dava la possibilità di dimostrare qualcosina, le mie idee. L'ho trovata, sono contentissimo di stare qua e adesso farò il possibile e l'impossibile, darò tutto me stesso per il Sant'Angelo. Perfetto, mister, per il momento la ringraziamo, le auguriamo buona fortuna per la stagione e buon lavoro. Grazie, grazie, ci vediamo presto.